L'Unione degli Universitari di Teramo lancia un nuovo appello alla regione per trovare una soluzione per la Biblioteca Melchiorre Derfico, a seguito dell'ennesima chiusura per alcuni casi di Covid tra il personale in servizio dell'importante istituzione culturale cittadina. L'Udo critica la mancanza di investimenti sulla cultura regionale e su come ciò va ad arricaderi in modo consistente sul mondo degli studenti. Va ricordato che la Biblioteca lo scorso anno per via dalla pandemia era rimasta chiusa per messi in attesa di attività di sanificazione e protocolli adeguati. Nei giorni scorsi è annunciato sui social l'ulteriore chiusura fino a sabato prossimo. Uno stop per chi è alle prese con la preparazione di esami e tesi di laurea rappresenta un serio problema. Esatto, questa settimana la Biblioteca Delfico è chiusa fino a lunedì a causa del Covid, ma il Covid non può essere più una scusa. Le aperture infatti non ci sono, non sono erogate con la frequenza con cui erano erogate prima del Covid già da mesi. Si è passati da 49 ore di apertura pre-Covid alle attuali 31 e quindi noi ci appelliamo alla politica regionale affinché trovi delle soluzioni, trovi dei fondi e sblocchi questa situazione di disagio per gli studenti. È sempre stata un punto di riferimento fondamentale della Biblioteca Delfico, è l'unica biblioteca del centro di Teramo e gli studenti universitari sono quelli a pagare il prezzo più grande, soprattutto in un periodo come questo, per un periodo di sessioni. Quale potrebbe essere una soluzione a questa problematica? La soluzione, quella proposta da più parti negli ultimi mesi, è quella di una fondazione gestita da università comune e provincia a cui aspettiamo che la politica risponda, risponda a questo appello lanciato da più parti. Grazie.